E il segretario della CGL Molise Franco Spina esprime un giudizio negativo sull'operato del governo della regione Molise che a conclusione dell'attuale legislatura lascia aperte numerose vertenze con problemi enormi e di difficile soluzione. Questa legislatura non si chiude bene? Il 4 noi ce lo auguriamo ma semplicemente anche per un discorso economico per far risparmiare un po' di soldini che servirebbero sicuramente alla gente e ai lavoratori in difficoltà. Ma qualora non ci fosse la data del 4 come data utile credo che sia utile concentrarsi in questo ultimissimo scorcio del legislatore e ne chiudere qualche vertenza. Sono troppe, dallo zuccherificio alla questione della gamma, ma all'ATM, ai trasporti, quindi al discorso delle mobilità intero che ci sono tante vertenze che sono tutte aperte e che necessitano di un'attenzione particolare. Purtroppo in questi ultimi tempi dobbiamo constatare un disinteresse, insomma quantomeno una scarsa attenzione a questi temi, un'alta attenzione a riposizionamenti di carattere politico organizzativo in vista delle prossime elezioni. Noi riteniamo che questa sia una cosa del tutto inconcepibile in un momento così complicato per la vita dei molisani. Dovrebbe essere quello della politica, dovrebbe essere un interesse a difendere tutti i molisani e tutti gli interessi dei molisani, non certamente le posizioni di reddite di qualcuno.